La Regione Toscana ha emanato un bando che stanzia 5 milioni di euro per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale su strade provinciali, comunali e di ambito urbano oppure su strati di strade regionali o nazionali interni ai centri abitati e per questo di competenza dei comuni. Per gli interventi su strade regionali è previsto un cofinanziamento dell'80% fino ad un massimo di 120 mila euro, mentre per le altre l'importo massimo è 75 mila euro che possono salire fino a 120 mila in caso di realizzazione di rotatorie. La sicurezza stradale è una delle nostre priorità. Dal 2015 ad oggi con più bandi abbiamo finanziato oltre 100 interventi, interventi proprio tesi a proteggere soprattutto quelli che sono considerati gli utenti più deboli della strada, vale a dire pedoni, ciclisti o i motociclisti e dei risultati positivi ne abbiamo avuti. Avranno maggior punteggio gli interventi che riguarderanno strade dove si sono verificati molti incidenti. La regione toscana in questi anni ha promosso anche iniziative rivolte ai giovani sugli stili di vita corretti e il senso della legalità. Ma entro quando dovranno presentare le proposte i comuni? Prendendo atto della situazione dell'emergenza nella quale ci troviamo, che provoca anche un rallentamento nell'attività degli uffici, abbiamo dato un tempo più lungo del solito e quindi avranno tempo fino al 15 settembre per poter presentare le domande che successivamente saranno valutate da un'apposita commissione.